Musica Ciao ragazzi bentornati da Bluff Forever sul canale Oggi secondo episodio della Reading Prediction I tre giocatori che è Predictionero se si può dire così Sono Neymar, Calejón e Zard Cominciamo quindi col brasiliano Brasiliano che quest'anno vantava di una carta come il ruolo ATT Con 90 di velocità, 80 di tiro, 76 di passaggio, 92 dribbling, 43 di difesa e 58 di colpo di resta Con 5 stelle piede debole e 5 stelle mostrabilità Che rendono questo giocatore insieme a un altro giocatore unici su FIFA 14 Ultimate Team Il prossimo anno quindi secondo me prima di tutto gli verrà a cambiare il ruolo Visto che ha giocato per gran parte della stagione come alla sinistra e non come attaccante Come prima punta visto che appunto c'era Messi Che giocava la falso 9 Sicuramente gli vedranno mantenere le stelle piede debole e mostrabilità Quasi sicuramente Visto che se le merita Allora E la velocità Quindi io gliela farei restare a 90 Poi ad 82 gli porterei il tiro A 79 il passaggio 91 il dribbling 30 la difesa E 63 di fisico Allora appunto la velocità Già a 90 è un valore più che giusto Il tiro Di due punti almeno si deve alzare se non ponere di più Visto che fa vedere le cose pazzesche anche in questo mondiale Ha fatto vedere davvero delle grandi cose Prima che poi si infortunasse per la ginocchiata Che gli ha rifilato Zunica Continua a parlare appunto della carta di FIFA 15 Il passaggio io lo metterò a dire perché C'è un passaggio che davvero 76 è troppo vergognoso Non è 76 molto di più Quindi 79 come minimo potrebbe arrivare anche a 80 Poi il dribbling Non so perché ma io Ho avuto l'intenzione di portargli al 91 Visto che non so Anche se c'è 5 stelle di mostrabilità 92 il dribbling era giusto Glielo ho voluto portare al 91 Anche se sinceramente potrebbe anche rimanere al 92 ecco Poi la difesa Da 43 Gliela porterei a 30 Visto che come ho detto nello scorso episodio La difesa Per i giocatori che giocano nei ruoli più avanzati Sarà un valore molto basso Quindi lui che ha la sinistra Come difesa 30 è più che giusto Se non pure troppo E poi 63 di fisico Visto che non ha un gran salto E non ha una grande forza Un pochettino diciamo alza la media Che lo fa arrivare fino a 63 la resistenza Ma poi niente di più Passiamo al secondo giocatore Quindi Caleon Del Napoli Lo spagnolo si presentava con 90 di velocità 74 di tiro 66 di passaggio 82 di dribbling 42 di difesa E 60 di colpo di resta Con 2 stelle pieterebole E 3 mostrabilità Prometto prima di tutto Che 2 stelle pieterebole Per lui sono davvero poche Visto che Usa entrambi i piedi Quindi Gli porterei a 3 E le stelle pieterebole E poi le mostrabilità Gli le lascerei a 3 Visto che non fa tantissimi Di quei numeri Allora Quindi La carta Che io Darei Diciamo così A Caleon Sarebbe Un 81 Da C.O.C. Ricordiamo che Caleon Inizialmente Era un 75 E poi è stato Upgradato A 79 Ma non come esterno adesso Come era All'inizio Ma bensì 79 Come C.O.C. E lo lascerei Sempre C.O.C. E gli Downgradei La velocità di 2 Visto che il 90 Secondo me è comunque troppo 88 È un valore più che giusto Il tiro Glielo alzerei come Lo alzerei di 5 punti Diminuirei di 7 Aumenterei Cioè scusate Di 7 punti Il passaggio Inoltre Il dribbling Lo lascerei Così com'è E la difesa Gli regalerei Di 12 Portandogli Anche lui A 30 Visto che in difesa Non si vede E poi Il fisico A 62 Visto che Anche egli Ha molta resistenza Ma ha poca forza fisica E salto Questo giocatore Ha collezionato 32 Presenze Presenze Scusate È messo a segno 20 reti Quindi è un giocatore Che si meriterebbe Quest'upgrade Ultimo giocatore Passiamo Quindi a Maurito Zarde Il giocatore Che si è trasferito Al Velez Dall'Inter E che In questa Sessione di mercato Si è trasferito Nella Premier League È un giocatore Che sicuramente Sarà baggarissimo Perché appunto Già quest'anno Lo definivano Messi Appunto Economico Il prossimo anno Sicuramente Avrà un upgrade Come ora vi farò vedere Quindi Il giocatore in questione Partiva con un 87 di velocità 74 tiro 62 passaggio 84 di dribbling 44 difesa E 62 di colpo di testa Prima punta Argentina E il prossimo anno Questo giocatore qui Che ha 4 stelle Piederebo Le mostre abilità Gli rilascio Appunto Queste stelle Visto che Sono giuste Per lui E gli aumenterei Di 2 la velocità Di 4 Gli aumenterei Il tiro Di 2 punti Invece Downgray Il passaggio Visto che Ho visto Non è che ho visto Le sue partite Diciamo Tutte le partite Però Lo seguiro È un giocatore Che appunto Di passaggi Lanchi Non è che Proprio Di 1 Gli aumenterei Il dribbling Come io aumenterò la velocità di 2 Anche il dribbling Io aumenterei La difesa Che la gallerei Di 12 punti Anca egli E la porterei A 32 E infine Il fisico A 68 Questa media Appunto Fra assalto Resistenza E forza fisica E forza fisica Appunto A 68 Come media Appunto Sarà comunque Un buon giocatore Molto buggato Visto che appunto Discreta forza fisica Buona velocità Anzi Ottima Buon tiro Lo faranno sicuramente Un giocatore molto interessante Quindi ragazzi Che dire Questo secondo episodio Della FIFA 15 Rating Prediction È finito Vi esorto A lasciare un bel like Se questo episodio Vi è piaciuto Se non avete visto Il primo episodio Andatevelo a vedere Che è sul canale The Braforever Al prossimo video Bella